barzelletta del giorno buongiorno a tutti e buon lunedì a tutti questa barzelletta la dedica a tutti i pescatori in riva al fiume un pescatore di pieno inverno faceva un freddo aveva fatto meno 10 un freddo con la canna a mano tutto rosso in faccia così con una guancia gonfia stava su sto fiume a un certo punto si avvicina uno uno di quelli che non si fanno i cazzi loro si avvicina e dice certo è una bella pensata venire a pescare qui con sto freddo ma come te va pure col mar dei denti quello guarda ma chi ti ha detto che c'è il mar dei denti ma come chi ti ha detto guarda che guancia ma quale guancia in qualche modo li scongerai fermi no